A Teramo la fiera dell'Epifania si farà ma con mascherina FFP2 obbligatoria. Questo è quanto deciso nell'incontro tra il prefetto di Teramo, Angelo De Prisco, sindaco d'Alberto e assessore agli eventi filipponi. Cento gli spositori di prodotti enogastronomici, dolciumi, artigianato, abbigliamento e calzature che animeranno la città per l'intera giornata dalle 8 alle 20, ma niente befana dei vigili del fuoco in quanto il decreto attuale non ne consente lo svolgimento negli spazi pubblici. C'è stato questo incontro in prefettura e vorrei innanzitutto chiarire un aspetto che è quello che è chiaramente un po' più difficile da comprendere anche per la collettività. Ci sono delle città come l'Aquila che hanno deciso di annullare la fiera e secondo me giustamente perché parliamo di una delle fiere più grandi del centro Italia con oltre 400 espositori. Parliamo invece di una fiera, quella teramana, con circa un centinaio di espositori paragonabile a un mercato cittadino, con espositori che verranno senza mezzi, quindi occupando una superficie minore e prediligendo quindi spazi più ampi per il passaggio delle persone. eravamo di fronte a un bivio, se avessimo annullato questa fiera ci dovevamo porre anche il tema del mercato. È chiaro che abbiamo deciso con un'ordinanza di in qualche modo tutelare ulteriormente la salute pubblica introducendo l'obbligo dell'FFP2. L'ordinanza sull'utilizzo delle mascherine obbligatorie FFP2 sarà in vigore anche per la giornata di sabato 8 gennaio per la ripresa del mercato ambulante settimanale. Sicuramente ci saranno degli operatori, otto della protezione civile più due pattuglie di vigili urbani che cercheranno in tutti i modi di evitare che ci siano assembramenti. Queste misure permettono insieme di continuare a permettere anche a questi commercianti di fare il loro lavoro e di evitare anche problemi di altro tipo come quelli comunque economici dovuti a restrizioni forti introdotte quando comunque siamo ancora in zona bianca. Un invito chiaramente a tutta la cittadinanza alla prudenza, non è il momento del liberi tutti però cerchiamo di continuare a vivere questi ritagli di libertà che ci siamo duramente conquistati nel tempo. Inoltre nel weekend tornano i divieti di capodanno nei bar e negli spazi pubblici. Grazie a tutti.